Musica Incontriamo l'Onorevole Catanoso al Flora Cafè, siete passati dai grandi alberghi ai bar, che succede Onorevole? Succede che così come stiamo facendo in tutta la provincia la fase organizzativa del centro-destra è in corso e quindi ci siamo un po' visti per capire come ripartire. Io sono stato molto contento di aver condiviso con gli altri dirigenti la scelta di questo giovane dirigente di partito che è il dottore Antonio Barbagallo per guidare Forza Italia da Cireale e tutti contenti abbiamo fatto questa scelta. Era giusto presentarlo a voi, alla stampa, alla città, poi lui avrà modo e saprà certamente farsi Onore e quindi poi parlerete con lui per quelle che sono le cose che vorrà fare. L'amministrazione compie nove mesi oggi, è finita la gestazione, lei che deve essere fatta di questa gravidanza? Io sono stato buono buono ad aspettare i primi sei mesi e ho visto che nei primi sei mesi non è successo niente se non qualche brutta figura. Adesso aspettiamo che finisca l'anno, noi come sapete siamo all'opposizione, non abbiamo visto nulla per cui fare un'opposizione costruttiva, si dice ragionevole. In effetti non c'è stato nulla, forse sarebbe stato meglio fare un'opposizione più dura, forse è arrivato il tempo di fare un'amministrazione più dura. Comunque adesso si vedrà quello che vorranno fare anche gli altri movimenti, gli altri partiti, i confieri comunali. Ad A Cireale da questo punto di vista c'è molto da fare, credo che le promesse di cambiamento sono state in effetti ottemperate e rispettate all'amministrazione. Peccato che immagino che la gente si aspettava un cambiamento in meglio e il cambiamento è stato assolutamente in peggio. Ma se non fosse per questo piccolo problema, voglio dire... Ad esempio qual è stato il peggio? Tutto quello che accade quotidianamente, mi pare che siamo al ridicolo, la villa è ancora nello Stato, era una battaglia campale, elettorale, mi pare che è combinata peggio di com'era prima. Ma quantomeno c'è stato chi ha gestito bene quella fase del finanziamento e dei lavori. Ora siamo ancora allo Stato. Ma appunto tutto, dalla vicenda delle piste ciclabili, le risposte ai commercianti, aprire o chiudere il centro storico, mi pare che c'è una leggera confusione rispetto alle cose da fare della città, le cose che la gente si aspettava. Possiamo parlare di mille altre cose su tutti gli argomenti, non si si è mossi di un passo in avanti, semmai si è fatto qualche tentativo di movimento che è finito come il gambero. All'indietro.